Prima vittoria esterna per l'Apoli Sportiva Santa Maria che spugna l'Orazio Raiti di Biancavilla contro il Paternò. Due reti di maggio, una per tempo, consentono ai cilentani di tornare a casa con i tre punti e salire a quota 8 in classifica. Un compito non semplice contro un Paternò che torna in campo dopo 21 giorni di pausa forzata e che vuole tornare alla vittoria. Infatti i padroni di casa partono forte, calcio di punizione di Cozza che si stampa sulla traversa salvando Grieco. Resterà però praticamente l'unica vera occasione per i calciatori Maglia Rosso-Blu. La Polisportiva risponde con Capozzoli che manda a vuoto il suo avversario, mette il pallone verso il centro. La difesa della Paternò si salva, è imprecisa però, la conclusione di Maio. E ancora la Polisportiva a farsi vedere calcio di punizione di Capozzoli che costringe Cavalli a smanacciare in calcio d'angolo. Sul successivo corner, battuto dai cilentani è Campanella a sfiorare la rete dell'avvantaggio ma l'estremo difensore Rosso-Blu si salva ancora una volta con un intervento prodigioso. E un monologo, quello dei giallorossi che attaccano soprattutto sull'out di destra con Capozzoli. Fa ancora tutto bene il calciatore cilentano mettendo per Citro il suo e un rigore in movimento ma è imprecisa la conclusione del calciatore classe 2003. Tandara protegge un ottimo pallone, lascia partire una conclusione dalla distanza Cavalli dice ancora una volta no. È il preludio però all'avvantaggio della formazione allenata da mister Esposito che arriva al trentanovesimo. Maio ruba un pallone a centrocampo e mette in movimento ancora una volta Capozzoli. Il fantasista di Aquara fa tutto bene e come all'assolito pennella uno dei suoi assist al centro per Bomber Maggio che è implacabile anche questa volta superando Cavalli per il vantaggio della polisportiva Santa Maria che va così al riposo sul punteggio di 1-0. Il copione non cambia nella ripresa. La formazione cilentana infatti mantiene sempre il pallino del gioco. Al dodicesimo break di Pastore che ruba un ottimo pallone e mette in movimento Tandara. Il calciatore cilentano serve Maggio che protegge un'area di rigore e viene falciato da Raia. Per il direttore di gara non ci sono dubbi e penalti. Dagli 11 metri Maggio è come al solito implacabile 2-0 per la polisportiva Santa Maria, doppietta per il Bomber Napoletano e sesta rete in cinque partite. Il calciatore va a raccogliere gli abbracci dei compagni di squadra dopo il gol del 2-0. Girandola di sostituzioni e standing ovation per Capozzoli anche da parte del pubblico locale che apprezza le giocate del calciatore cilentano. La polisportiva è praticamente da sola in campo. Il paterno arranca. Bozzaut recupera un buon pallone e lascia partire una conclusione che però Cavalli blocca senza problemi. Nella finale Romano va via sull'out di destra. Viene atterrato da Mazzotti per il direttore di gara e calcio di punizione. I cilentani avrebbero voluto un penalty. Negli ultimi minuti potrebbe arrivare anche la terza rete con Pastore che recupera un buon pallone al limite dell'aria e lascia partire un pallonetto che per poco non beffa Cavalli. Arriva il triplice fischio e tre punti importantissimi per la polisportiva Santa Maria che vince la prima gara in trasferta di questa prima storica stagione in Serie D.